ben trovati amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi sabato 7 settembre 2024 abbiamo i giornali pronti sulla nostra scrivania questa mattina come tutte le mattine e devo dire che il profumo della carta stampata le notizie pubblicate proprio visivamente e non soltanto come si possono così leggere sui social beh hanno tutto un altro un'altra atmosfera un altro profumo un'altra attenzione insomma la carta stampata anche se fa parte di un mondo che sta così lievemente scomparendo piano piano scomparendo ebbè dobbiamo dire che ancora ha il suo fascino e allora penetriamo in questo mondo e cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dall'almanarco del giorno che si festeggia oggi eccola e santa regina di alise una località della francia visse nel terzo secolo era figlia di un nobile pagano lei da piccolissima si fece cristiana e fece voto di castità nonostante che suo padre fece di tutto per farla sposare ebbene di lei si è rimbaguito anche il prefetto della città ma lei non ne volle sapere il padre cercò di fare di tutto per costringerla a sposarsi ma non ci riuscì addirittura la imprigionò la torturò anche e alla fine la povera la povera regina che era una ragazza di 15 anni fu mandata a morte e fu decapitata ma nel momento in cui il boia alzò la spada dall'alto apparve una colomba e questo fu un segno premonitore molti che assistentero al supplizio in quel momento si convertirono così riportano le cronache ed ora passiamo dunque alle previsioni del tempo salutando regina di alise ebbene dopo le lievi perturbazioni dei giorni scorsi ritorna il cielo sereno in questo momento anche se le previsioni dicono che la domenica dovrebbe essere perturbata vediamo tempo stabile soleggiato con poche nubi di passaggio le temperature sono in lieve aumento la massima arriverà fino a 30 32 gradi la minima si fermerà si è fermata anzi dobbiamo dire a 18 i venti i venti sono deboli sulle coste da est sud est mentre nell'entroterra da sud est il mare è calmo il sole è sorto alle 6 e 37 tramonterà alle 19 e 34 e allora passiamo alle notizie vediamo quello che apre l'apertura della pagina del corriere adriatico questa mattina abbiamo lo stesso articolo che viene riportato non in apertura ma con grande evidenza anche dal resto del carlino questa reazione che un'associazione di automobilisti che conduce una battaglia contro gli autovelox ha compiuto ebbene ha denunciato il sindaco luca serfilippi autovelox sindaco querelato per le multe il comune non si è adeguato alla sentenza della cassazione così come del resto hanno fatto tante altre amministrazioni comunali l'associazione che tutela gli automobilisti si chiama alt velox associazione di tutela degli utenti della strada ha depositato alle procure della repubblica di pesaro urbino e ancona nei confronti del sindaco di fano ma poi anche del prefetto e di altre figure tra assessori e dirigenti ai più diversi livelli appunto questa querela ebbene tutto è nato da una interrogazione che ha presentato al consiglio comunale l'esponente il consigliere di in comune e samuele mascarin il quale legittimamente ha chiesto ma insomma quei due autovelox che sono posti sul rettilineo di metauriglia e di cucurano funzionano sono in funzione perché il comune aveva annunciato nei giorni scorsi qualche tempo fa dovremmo dire che erano stati disattivati in merito a tutti gli interrogativi che erano sorti a livello nazionale tra quelli omologati e quelli autorizzati insomma c'era un problema di autorizzazioni ebbene la risposta ancora ufficialmente il consiglio comunale non è avvenuta infatti il consiglio comunale deve riprendere dopo la pausa estiva nel comune di fano ma il sindaco aveva fatto delle dichiarazioni aveva detto che erano in funzione e soprattutto era la loro funzionalità era legittima ed ecco quindi c'è un ricorso addirittura i corsi sono una cinquantina lo dice il rappresentante di questa associazione gianantonio sottile presidente di alt velox che lega la denuncia anche le parole di ser filippi che ieri ha ribadito alla convinzione della correttezza di un comportamento che è stato adottato anche da tante altre amministrazioni in tutta italia ebbene vedremo come andrà a finire questa questione insomma intanto fioccano i ricorsi dal giudice di pace da parte di coloro che hanno avuto delle multe per aver superato i limiti nel rettilineo di metauriglia in modo particolare ma anche in quello di cucurano comunque la questione non sta come sempre detto nell'autovelox sì nell'autovelox no sta soprattutto nell'assumere un comportamento di sicurezza perché in quei rettilini veramente sono morte delle persone a causa dell'alta velocità veniamo le altre notizie l'altra sera si è tenuta una nuova assemblea questa volta a metauriglia per definire le opere compensative relative all'adriatic link che è quello elettrodotto sotterraneo e sottomarino che terna si appresta a realizzare per unire le marche con l'abruzzo partirà dalla centrale elettrica di carrara attraverserà il territorio comunale fino alla costa e si immergerà in mare in quel di metauriglia e per questo che dopo aver tenuto una nuova assemblea a casa betlem a carrara nei giorni precedenti ebbene l'altra sera una nuova riunione si è tenuta a metauriglia e anche qui si è raggiunto l'accordo nel definire le opere compensative all'inizio dell'assemblea il comune di fano ha presentato un suo pacchetto ma questo pacchetto è stato poi integrato molto con molte altre proposte che sono giunte che sono state espresse dall'assemblea stessa e sono veramente molte la maggior parte riguarda la viabilità la sicurezza della viabilità piste ciclabili e piste pedonali a margine ancora della statale oltre ovviamente alla ciclovia adriatica rotatorie per evitare problemi agli incroci e tutor al posto dell'autovelox nel rettilineo di torrette poi abbiamo anche altre richieste che riguardano l'assetto idrico del territorio l'aspetto fognario insomma ci sono tante tante altre richieste insomma un pacchetto piuttosto nutrito che l'amministrazione comunale si è accordata per finanziarlo e se non basteranno i soldi di terna ha detto il sindaco luca serfilippi ne farà fronte anche il bilancio delle comune quindi un pacchetto che entro questa tornata amministrativa dovrà essere risolto dovrà essere finanziato ed ora diamo l'addio a un personaggio che ha svolto un ruolo importante nella città di Fano è deceduta improvvisamente l'ex assessora dei Verdi Simonetta Alfassio Grimaldi è deceduta dopo un malore si era sentita male in vacanza in Trentino aveva 78 anni è deceduta improvvisamente a causa di un malore che purtroppo non le ha lasciato scampo l'ha colpita sulle montagne del Trentino dove stava trascorrendo un periodo di vacanza era originaria di Pavia aveva appunto 78 anni ex dipendente della SNAM ambientalista ambientalista fin dalla prima ora aveva veramente quando gli ambientalisti avevano cominciato a interpretare un ruolo importante sia a livello politico che sociale nel territorio comunale e poi aveva continuato la sua attività nell'associazione Amici del Chilombo e aveva combattuto battaglie per i diritti delle donne Alfassio Grimaldi è stata assessore comunale della seconda giunta a Carnaroli espressa dai Verdi si occupava di ambiente ma anche di mobilità urbana erano i tempi del putte del piano urbano del traffico insomma che cercava di così modificare la viabilità affanese in un senso compatibile dando un posto di primo piano alla mobilità dolce altro argomento che appare sui giornali questa mattina è il frutto della conferenza stampa che il sindaco Lucas e Filippi insieme alla giunta ha svolto nella giornata di ieri venerdì è una delle conferenze stampa del venerdì perché il sindaco ha reintrodotto questo appuntamento con i giornalisti settimanale ebbene ieri ha parlato della nuova caserma dei vigili del fuoco è un progetto questo che imballo da tanto tempo che si era renato a causa dell'aumento del costo delle materie prime relativo poi al periodo del covid quando tutto è cresciuto in maniera anche insostenibile proprio questo problema ha causato la stasi del progetto della caserma dei vigili e del fuoco il prezzo era lievitato il costo era lievitato tantissimo tanto che la ditta che aveva vinto la gara d'appalto aveva rinunciato al progetto allora si è dovuto ricominciare da capo il finanziamento era tutto a carico del ministero questa volta il ministero ha accettato l'incremento dei costi e quindi è stato tutto definito ma ci è voluto ci è voluto molto per stare dietro a questa questione ora pensate 40% in più di quello che era stato preventivato in precedenza 2 milioni di euro e beh insomma è una cifra piuttosto rilevante e allora che cosa accade adesso? Adesso si aspetta che giunga il verificatore che a termini di legge deve così certificare tutta la regolarità del procedimento quindi il tutto verrà inviato al ministero per l'ultima autorizzazione e quindi si pensa che tra breve l'amministrazione comunale possa procedere a pubblicare il bando di gara i tempi così preventivano che all'inizio dell'anno possono iniziare i lavori e dopo due anni la nuova caserma dei vigili del fuoco che verrà realizzata a Chiaruccia sarà appunto consegnata al corpo dei vigili stessi passiamo ora all'entroterra dove vediamo una nuova iniziativa di tutte quelle iniziative di carattere archeologico che stanno animando questa zona da Fossombrone in su ebbene si tratta di Archeo Explorer questa volta siamo al Furlo dove sappiamo che ci sono due gallerie di epoca romana ma il periodo preso in considerazione con questa iniziativa non è tanto l'epoca romana quanto l'epoca successiva, quella gotica bizantina proseguono dunque le iniziative per celebrare il cinquantesimo degli scavi a Forum Semproni ebbene dopo il successo che ha ottenuto l'iniziativa di calmazzo dove si è così messo in evidenza quell'area funeraria che forse non tutti conoscono ma è veramente interessante da visitare questa volta l'attenzione si è posta sul tema il futuro tra goti e bizantini ebbene la gola del Furlo è stata oggetto di conferenza da parte del professore Daniele Sacco docente di archeologia mediovale all'Università di Urbino e dello studioso sempre di archeologia mediovale Siegfried Vona che hanno parlato del passaggio dei goti e dei bizantini la Flaminia costituiva sempre una via molto diretta che univa Roma all'Adriatico e quindi anche all'Alta Italia e quindi era anche una via percorsa dai barbari e i goti però i bizantini erano insomma i successori dell'impero romano vediamo ora anche le altre iniziative passiamo a Mondolfo dove torna con giubilo la Madonna ha restaurata la Vergine delle Grotte che era stata così fatta oggetto di un atto sacrilico da parte di malviventi che l'avevano in franta per rubarle delle catenine che erano state cucite nella veste appunto dell'immagine sarà esposta per la festa di domani doppio festeggiamento quello previsto a Mondolfo domani all'antico santuario della Madonna delle Grotte ebbene si celebra la festa annuale nel luogo carico di fede e di arte che cade come al solito nella giornata in cui la Chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria ebbene questa festa verrà dedicata al ritorno nel santuario della effigia restaurata della Madonna delle Grotte una effigia che si ritiene miracolosa il 3 agosto scorso infatti i gnoti erano penetrati nel santuario e avevano infranto l'urna che racchiudeva il simulacro e avevano sottratto questi monini per fortuna tutto è ritornato nella sua precedente immagine di sacralità la pagina di Senigallia il ponte Garibaldi non si tocca avanti anche con le critiche ebbene il presidente della regione Francesco Acquaroli questa volta punta i piedi e dice alla comunità vanno garantite sicurezza e viabilità e il ponte Garibaldi è un elemento fondante del nuovo progetto per far sì che le alluvioni che magari capiteranno ancora non provocano quei danni che hanno provocato in passato ebbene questa volta c'è un investimento molto molto importante 130 milioni per sanare il territorio dunque nessun ripensamento sul nuovo punto Garibaldi ci tireremo dietro qualche critica ha messo Acquaroli ma la viabilità e il transito vanno garantiti alla città e quindi questa volta si va avanti anche se insomma qualcuno storce la bocca la pagina di apertura del Corriere Adriatico su Pesaro qui il turismo vale il 15% del PIL totale e 20 sono il vero traino ebbene ieri a Palazzo Antaldi a Pesaro si è tenuto il quarto forum di impresa cultura Italia della Confcommercio il titolo di questa edizione è stato turismo e impresa culturale bellezza territori e destinazioni e nel corso dell'evento è stato analizzato l'intreccio che c'è tra cultura e turismo sappiamo come la cultura costituisce veramente un modulo di traino del turismo perché insomma non basta più a chi va in vacanza stare al mare magari così tranquillamente a leggere un libro ma vuole visitare, vuole conoscere il territorio a partire dalla gastronomia, dall'arte, dalla tradizione, dall'ambiente di tutte le attrattive appunto che fanno bello un territorio passiamo ancora alla fiera di San Nicola che si preannuncia ormai il 10 settembre è molto molto vicino ebbene San Nicola sarà la fiera da capitale capitale della cultura Pesaro un villaggio del gusto con otto proloco è una delle novità novità dell'edizione 2024 è capitale del gusto in viale della Repubblica grazie alla partecipazione di otto proloco del territorio in totale ci saranno 500 espositori in 18.000 metri quadrati secondo quello che ha annunciato l'organizzazione di Pesaro Parcheggi ebbene una iniziativa che supera un po' il richiamo cittadino il richiamo provinciale ma che va al di là perché la fiera di San Nicola è una delle più antiche che si organizzano nel territorio e grazie alla sua estensione è anche una delle più importanti vediamo anche un'altra notizia che riguarda Pesaro dove si continua a tenere alto l'argomento della pulizia delle calitoie per evitare i problemi, i disastri, i danni che hanno verificato gli ultimi temporali in città operazione pulizia delle calitoie al via lunedì da Villa San Martino Biancani e della Dora il sindaco e l'assessore impegni presi e mantenuti in una settimana ci sarà la manutenzione per 250 tombini ma questo dovrebbe essere non un attantum ma dovrebbe essere un impegno che l'amministrazione comunale intende assolvere tutti i giorni dell'anno l'apertura del resto del Carlino è dedicata alla caserma dei vigili del fuoco si sblocca il progetto è stato fallito il primo tentativo nel 2021 a causa della pandemia e quindi come abbiamo detto dell'aumento del costo delle materie prime il Comune ora ci riprova la costruzione dovrebbe partire a febbraio del 2025 a febbraio prossimo ed ora vediamo un po' quello che accade nell'avvicendamento dei dirigenti della sanità nel nostro territorio abbiamo visto come il resto del Carlino ha annunciato la probabile ancora non certa partenza del dirigente di chirurgia Patriti che avrebbe vinto un concorso in quel dell'Umbria ed ora se ne va anche il primario di cardiologia Guido Rocchi chi sostituisce Guido Rocchi? ebbene anche se Guido Rocchi ancora non ha formalizzato le sue dimissioni ma è andato in vacanza ci starà per diversi giorni ma comunque sembra che la cosa ormai sia consolidata ebbene a sostituirlo è Antonio Balletta medico cardiologo che sostituirà il responsabile della cardiologia che è in ferie dal 2 settembre al 31 dicembre di quest'anno Balletta sarebbe stato indicato dallo stesso Rocchi come sempre avviene fanno sapere dall'Aste provinciale in questi casi il lungo periodo di ferie preso da Rocchi sembra valorare la voce di una sua prossima partenza ma l'ufficialità si avrà soltanto quando il medico formalizzerà le sue dimissioni denuncieremo il sindaco per gli autovelox e anche il Carlino evidenzia la mossa di questo altvelox questa associazione che lotta contro insomma l'istituzione degli autovelox qui vediamo l'autovelox di Cucurano in questa fotografia che miete multe insomma addirittura si riesce a sanare anche il bilancio del comune con tutto l'importo incassato a Urbino case a secco tanta la società e tanti problemi che la mancanza d'acqua provoca ma le rotatorie le annaffiano ebbene l'attacco al sindaco è del Movimento 5 Stelle insomma il comune spreca e invita invece i cittadini a risparmiare l'acqua Marche Multiservizi ha portato le cisterne eppure l'emergenza siccità qui non sembra percepita non è stata varata nessuna ordinanza di contenimento dell'acqua e ora ci sono invece le cisterne che eragano acqua al posto di quella dei Rubinetti ebbene questo per quanto riguarda il Corriere il resto delle Carlino le pagine le notizie sono presso a poco quelle che abbiamo detto vediamo qui la mostra la fiera di San Nicola la fiera del gusto l'inno alle tipicità gastronomiche grazie a un percorso culinario guardate che belle cipolle che fanno vedere qui questi due espositori alla fiera di San Nicola ma dobbiamo dire che anche la fiera di San Bartolomeo improntata all'aglio e alle cipolle queste belle reste di questi buoni frutti che ci dà la terra possibile che Ricci non sapesse la commissione controllo convoca l'ex sindaco e poi anche Santini ed esposto per quanto riguarda tutto quello che è stato fatto con le sponsorizzazioni durante il quinquennio governato dall'ex sindaco ora consigliere europeo e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo vi auguro un buon weekend lunedì saremo sempre puntuali alle 7 sperando che i giornali arrivano in edicola e intanto appunto vi auguro una buona giornata grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.